Le indagini sono state chiuse e si aggrava la posizione dell'operaio gelese Giacomo Ascia, ora accusato di tentato omicidio. I PM della procura di Venezia gli contestano proprio questo reato per quanto accaduto nel giugno dello scorso anno a Mestre. L'operaio gelese, secondo la ricostruzione dei PM e dei carabinieri, avrebbe colpito più volte il padre della sua compagna. Lo ferì usando un coltello a serramanico, pare al culmine di un'accesa discussione. In strada, l'uomo, un 47enne, venne poi trasferito in ospedale. Secondo i magistrati veneti, Ascia avrebbe colpito per uccidere spinto dall'astio verso la vittima. Sembra che le discussioni fossero sorti a seguito della relazione sentimentale che la gelese aveva avviato con la figlia del 47enne ferito. Per gli investigatori lo avrebbe più volte minacciato di morte. Sarebbe accaduto quando si oppose al fatto che la figlia potesse partire con Ascia che voleva fare il ritorno in Sicilia. Tutte contestazioni che l'operaio ha sempre respinto lasciò il carcere dove era stato trasferito dopo l'aggressione. Il GIP accolse le richieste del suo difensore, l'avvocato Rocco Cutini. Attualmente è sottoposto solo al divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall'uomo colpito. Sentito dal GIP dopo l'arresto spiegò di essersi difeso riferendo di essere stato vittima di un'aggressione. Le indagini nei suoi confronti sono state chiuse e oltre che del tentato omicidio dovrà rispondere anche del possesso del coltello.